Musica Demin ha fottuto T-Bone L'aveva detto che avrebbe provato a fermarmi Ma stavolta non vincere Problemi in arrivo La Bloom sa dove sei Sei un po' confuso Perché ricordo chiaramente di averti inviato lì Per cancellarmi dai loro radar E ha funzionato L'inizio sta venendo a cercarti Certi giorni dovrei dar retto al mio istinto E restarmene al letto Sì, certi giorni Gesù Cristo a pedali Va bene, dai, sbrega di cazzo Non voglio morire qui sai Sbrega di cazzo Bella squaglio Spero che tu sappia sparare meglio di questi qui Cristo Guarda che roba Ha del talento Esci fuori, Candy Sì, sappiamo che c'è Sì, sappiamo che c'è Attenzione Attenzione Non è sparito Cerchiamolo Sei tu, Perf? Sono io Sono morti Ci sto lavorando Non funziona Non funziona Non funziona Non funziona Porca puttana Oh cazzo Ma cazzo Oh parliamoci chiaro, do la colpa a te d'accordo e ora muoviamoci merda, devo far saltare in aria a questo posto devo armare altre trappole poi ce la daremo a gambe che peccato vabbè, diamoci dentro, Aiden oh, cazzo seguimi di qua bombe piazzate, ma non è pronto al detonatore serve qualche secondo per caricarsi dobbiamo fare in modo che non li disattivino dai le cuffie cosa? perfetto dobbiamo festeggiare con un po' di musica, bello mio bene, non ho mai potuto fare speriamo nelle trappole serve un minuto solo un minuto aspetta tutto bene attiva le trappole ora funzionano che forza ora cuciniamo con il gas non dicevo che la mia arte era una bombata merda, hai visto? mi hanno preso alcun gol lo fanno dentro avvelto versetto a questo uno è minato ora resta l'altro Ai detonatori servono pochi secondi Se vuoi pochi d'artificio, aspetta un secondo Non posso ancora farli entrare, che ne li abbada Ci sono quasi Ora non sono felice Proprio no Mi prende l'aiuto Ok Vieni in lontano Ok Ok Vai 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 Andiamo Andiamo C'è chino Merda Questi qui non perdono tempo Ai dentro Stanno rompendo il culo Ai dentro Cristo santo Colpisilo Poi Poi Non Poi 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 andiamo cazzo cecchino merda questi qui non perdono tempo merda cristo santo scordisilo tutto ok ehi te l'avevo detto che faceva un casino hai gli onori di casa aspetta aspetta per il mio portfoglio procedi grazie ehi scusa per l'attacco tranquillo non mi affeziono più alle cose visto che di solito le perdo dovrei farlo anch'io odio le separazioni ehi guarda che dentro sono un vulcano in piena eruzione ma non sono un ingrato ostacoli a parte ora sono un uomo libero grazie a te e sto tornando a chicago senti hai un posto dove farmi stare la tua vecchia postazione del ctos nel bunker va bene voglio passare al setaccio i tuoi file e scoprire cosa ha causato tanto casino devono restare segreti tibon ti scambierò per mia sorella non devi preoccuparti mi hai fatto un favore ora tocca a me iniziamoci iniziamoci Lo senti? È il potere di trilioni di byte di informazioni a tua disposizione. Beh, dovrei restartene buono qui per un po'. Ah-ha. Cos'è questa storia? Non lo so. Sarai implicato in un mio vecchio lavoro. E qualcuno non vuole che scopra altro. Sono felice di vederti. Allora, cosa è successo? Spionaggio industriale. Poliziotti corrotti. Esplosioni, dolcezza. Tu sei? Lei è Clara. Clara T-Bone. Anche conosciuto come il leggendario Raymond Candy. Davvero? Non hanno tutti un bel faccino, tesoro? No, è che... Cioè, io... Wow. Ti ammiro. Oh. Ma sant'è. Allora. Cos'è successo? Damien è stato qui. Cos'è? Cos'è? Come lo sapeva? Non lo so, ora si è messo in affare improprio. Qualcosa con la Bloom. Non me l'avevi detto. Aspetta. No, aspetta un cazzo. Parai bene a dirmi che succede. Tutto. Ho non decripto un bel niente. Quindi... Damien è la Bloom. Non devi preoccuparti. Lo decido io di che mi preoccupo, Alden. Ascolta bene. Nel server c'è un nome, io lo voglio. Quindi io ti porto le informazioni. E tu le decripti. Allora hai un bel problema. Ehi, ehi. Ci serve la tua abilità. Il server utilizza un tuo codice. Ci serve... Raymond Candy. Sicuro di recuperare quei dati senza farti catturare? No. Ah. Finalmente. Sei sincero. E allora datti una mossa, bello. Intanto Clara mi aggiornerà su un paio di cosette. Grazie. 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 Grazie.